Anche questa sera va in scena la solidarietà. Sei pronto a offrire il tuo sostegno? Sarai tu a decidere chi lo merita davvero. E con un piccolo gesto di carità potrai contribuire a cambiare una vita. Fammi partecipare. Attenere! Valida l'esibizione e invia la tua donazione direttamente da casa. Come faccio non farmi bene? Ma ricorda, soltanto uno alla fine otterrà delle mosche. Il cane ci voleva pregare. Tu ci devi portare i disperati vedi. L'elemosina non è un film. Anzi, quel che ha vinto mi ha preso una. Io sono pentita di quello che ero. Ma non è tardi, sai? Vi prego, lasciatemi partecipare. Comunque, o ci va lui o troviamo un sostituto. C'è l'ultima che ho portato. La demente. Tu lo sai che cosa significa dare ascolto o che sopplica? Deciso? L'elemosina. Ascolta la voce delle emozioni più vere. Regala un solo a chi non ha più niente da perdere. Grazie, le faremo sapere a fondare. Tu non devi più vergognarti di me. Credevi di venire a fare un film?